quelli dell'albergo guarda come chiamano il taxi, che spettacolo, col fischietto si mettono in mezzo fermano il taxi stanno andando a fare il fitting per Liberty, per la sfilata di domani outfit molto sobrio l'insalata come non si sa che cosa c'è dentro e niente che vuoi mangiare? non lo so buongiorno mondo sono per l'hotel, mi alleno, mi cambio e poi diretto alla prima sfilata di Liberty eccoci qui bisogna andare a cattare la Giulie dov'è? eccola eccola per evitare che il jet lag mi sta uccidendo la cosa più bella è questa room off e buonanotte un outfit sobrio per Liberty e buonanotte 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 aqui